Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Ex Merloni e JP Industries sono un problema nazionale, bisogna velocizzare la rimodulazione dell'accordo di programma. Si unanime dell'Aula alla mozione di Andrea Smacchi. Prima della discussione ricevuti a Palazzo Cesaroni i rappresentanti sindacali. Il servizio. Con voto unanime l'Assemblea Legislativa ha approvato la mozione presentata da Andrea Smacchi del Partito Democratico che impegna la Giunta regionale ad un'azione incisiva nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico affinché la vicenda ex Merloni e JP Industries sia concretamente al centro dell'attenzione del Governo per una velocizzazione degli interventi e per la rimodulazione dell'accordo di programma. Approvato, sempre all'unanimità, un emendamento proposto da Claudio Ricci, portavoce centrodestra e liste civiche, che rimarca l'importanza del sostegno a progetti industriali nel settore manifatturiero innovativo nella fascia appenninica. Il documento è stato presentato al termine della sessione mattutina dell'Aula, prima di dare corso a un incontro richiesto dai rappresentanti sindacali dei lavoratori della ex Merloni alla Presidente dell'Assemblea Donatella Porsi e al quale hanno preso parte la Presidente della Giunta Catiuscia Marini, i capigruppo consigliari, l'assessore allo sviluppo economico Fabio Paparelli e altri membri dell'esecutivo. Le sigle sindacali hanno chiesto alla politica regionale interventi urgenti per salvaguardare l'occupazione di centinaia di lavoratori, circa 700, cento dei quali, dallo scorso 11 ottobre, sono già senza alcuna copertura. Hanno anche auspicato interventi concreti da parte della Regione per espronare le imprese ad investire verso un contesto territoriale con importanti agevolazioni. L'assessore Paparelli ha parlato della attivazione di un percorso per la definizione dell'avviso pubblico per la raccolta e l'acquisizione dei progetti di sviluppo industriale ed occupazionale a valere sulle risorse e gli incentivi legati alla legge 181 dell'89 per la riqualificazione delle aree di crisi industriale e creazione di nuovi posti di lavoro, in riferimento alla previsione di accordo di programma. La previsione di attività sull'accordo di programma in merito al decreto ministeriale del 1 aprile 2015 per ciò che concerne i progetti di ricerca per JP Industries. La sostenibilità del progetto di JP Industries attraverso l'integrazione tra sistema bancario e ministero sulla prospettiva industriale dell'azienda. Nell'ultima seduta l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato un atto che chiede di adottare ogni iniziativa per scongiurare la mancata realizzazione dello svincolo stradale di Scopoli. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato con 16 voti favorevoli e l'astenzione del Movimento 5 Stelle un atto consistente in un emendamento sostitutivo di due mozioni quella del consigliere Claudio Ricci e quella del consigliere Giacomo Leonelli aventi l'obiettivo di realizzare lo svincolo di Scopoli sulla Statale 77. L'atto impegna la Giunta ad adottare ogni iniziativa finalizzata a scongiurare la mancata realizzazione dello svincolo interessando del problema anche il ministro e a riferire sugli esiti degli incontri all'Assemblea legislativa per gli atti conseguenti a tutela anche normativa delle opportunità di un'area fondamentale dell'Umbria. L'assessore Giuseppe Chianella ha spiegato in aula che la Giunta ha sempre ritenuto necessario questo semisvincolo sia per la sicurezza dei trasporti dato che si trova dopo una galleria lunga diversi chilometri che per i territori interessati dall'infrastruttura. Rispetto alle sottolineature della sovrintendenza sono stati stilati tre diversi progetti, ha detto l'assessore, proprio per mitigare l'impatto ambientale dell'opera. L'ultima versione è stata sostanzialmente accettata dalla sovrintendenza ma poi bloccata dal Ministero dei Beni Culturali. La Presidente della Regione, Catiuscia Marini, sempre nel dibattito in aula, ha detto che dovranno essere assunte le decisioni che permettano di portare a conclusione i lavori. Il capogruppo regionale del Partito Democratico, Giacomo Leonelli, commenta con soddisfazione l'ampia convergenza ottenuta dalla mozione unitaria per Leonelli è una vittoria ottenuta in una battaglia di dignità per i territori interessati e per tutta la Regione. Per Claudio Ricci, proponente della mozione, serve un'assunzione di responsabilità. L'infrastruttura va fatta e occorre anche antropizzare armonicamente l'ambiente, quindi mantenere la vita minima di quei territori e della loro identità. I consiglieri del Movimento 5 Stelle si sono astenuti. Per Maria Grazia Carbonari, gli atti discussi a Palazzo Cesaroni mirano a bypassare chi rappresenta le istituzioni ed è chiamato con il proprio lavoro a tutelare l'interesse dei territori umbri. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha deciso all'unanimità di esaminare approfonditamente in seconda commissione la mozione del capogruppo della Lega Nord, Emanuele Fiorini, sugli indennizi per le aziende agricole danneggiate dall'incendio di Vascigliano del 2009. Il capogruppo Umbro del Carroccio chiede che la Giunta regionale adotti tutte le iniziative necessarie anche verso il Governo nazionale per reperire le risorse economiche necessarie per indennizzare in modo proporzionale rispetto ai danni subiti le aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla dispersione di agenti inquinanti in conseguenza dell'incendio dell'azienda Ecorecuperi. Approvata all'unanimità dall'Aula di Palazzo Cesaroni la proposta di risoluzione avanzata dal consigliere regionale della Lega Nord Valerio Mancini sull'istituzione in Umbria di un nucleo cinofilo dei carabinieri. Illustrando il documento in aula Mancini ha spiegato che l'unità cinofila potrebbe essere messa in rete con le principali città dell'Umbria grazie alla collaborazione con le polizie locali. Per il territorio si tratterebbe di un servizio vitale per la sicurezza dei cittadini, utile soprattutto per contrastare i reati legati alla tossicodipendenza. Nei sette anni di esperienza di Bastia Umbra, ha detto Mancini, il nucleo cinofilo ha portato a termine brillanti operazioni con il sequestro di centinaia di chili di sostanze stupefacenti e con l'arresto di numerose persone in flagranza di reato. Audizione in seconda commissione sul piano dei trasporti 2014-2024, integrazione e efficientamento dei servizi, rilancio della ferrovia centrale Umbra, migliore ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale, accrescere il ruolo dell'aeroporto. Sentiamo il servizio. Integrazione ed efficientamento dei servizi, rilancio della ferrovia centrale Umbra con progetti concreti e realizzabili, migliore e più razionale ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale, accrescere il ruolo dell'aeroporto San Francesco di Assisi, sostanziale sia a Rigutino come collegamento all'alta velocità. Sono alcune indicazioni emerse dell'audizione seminario, proposta dalla seconda commissione preseduta da Giuseppe Biancarelli a Palazzo Cesaroni, in merito al piano regionale dei trasporti 2014-2024. Numerosi i soggetti intervenuti, sia istituzionali che in rappresentanza di sigle sindacali, associazioni, comitati. È stato l'assessore regionale ai trasporti, Giuseppe Chianella, ad aprire l'incontro, sottolineando che il piano rappresenta uno strumento decennale con start-up quadriennale e periodi di revisione e monitoraggio triennali. Una presentazione sintetica del documento programmatico è stata effettuata dall'ingegnere Stefano Ciurnelli, che ha ribadito come gli obiettivi principali siano rappresentati dall'ammiglioramento dell'accessibilità con l'aeroporto di Fiumicino attraverso l'introduzione progressiva di collegamenti ferroviari diretti, dal potenziamento dell'accessibilità all'aeroporto San Francesco di Assisi, dall'ammiglioramento dei collegamenti con la rete alta velocità per Firenze e Roma. In merito alla nuova stazione Medietruria è stata ribadita la soluzione Rigutino, 12 km a sud di Arezzo. In merito al trasporto pubblico locale è previsto un piano di riprogrammazione con particolare attenzione verso la FCU, con una precisa strategia di interventi per ottimizzare l'infrastruttura anche attraverso una integrazione con gomma. La soluzione è stato evidenziato, potrebbe essere il metrobus è un sistema treno tram con una interoperabilità tra reti ferroviarie e tramviarie. Per il trasporto su gomma è stata ribadita la necessità di un vero efficientamento ed ottimizzazione dei servizi. Al via la manutenzione straordinaria su diversi tratti del raccordo autostradale Perugia-Betolle, i dettagli forniti alla seconda commissione dal Capo compartimento Anas Raffaele Celia. Inizieranno il 9 novembre prossimo i lavori sul raccordo autostradale Perugia-Betolle all'altezza del viadotto Genna tra Ferro di Cavallo e Madonna Alta. Successivamente, come concordato con la prefettura, il comune di Perugia, la polizia stradale e dopo aver fatto le dovute valutazioni sugli impatti riscontrati in termini di circolazione, si procederà all'avvio dei lavori riguardanti anche la galleria Volumni tra Ponte San Giovanni e Piscille. Lo ha detto nell'audizione in seconda commissione consigliare il Capo compartimento Anas dell'Umbria, Raffaele Celia. Gli altri interventi riguardano tre punti del raccordo di venuti critici per quanto attiene alla sicurezza della circolazione il viadotto Ellera in prossimità dello svincolo di Corciano, le gallerie Prepo tra gli svincoli di Prepo e Piscille e Passignano tra gli svincoli di Passignano Est e Tuoro. Tutti compresi nel piano di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie del decreto Sblocca Italia. Gli interventi prevedono la rimozione delle barriere metalliche vetuste, il rifacimento di parte della soletta e dei cordoli del viadotto e l'installazione di nuove barriere a bordo ponte di ultima generazione che garantiscono prestazioni superiori a un livello di contenimento più elevato, specialmente in caso di incidenti lungo il viadotto. Per tutte le gallerie è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione a LED, il rivestimento delle pareti con pannelli illuminotecnici, l'installazione di segnaletica luminosa utile in caso di emergenza e pannelli a messaggio variabile, oltre al rifacimento dell'impianto elettrico. Sarà realizzato un impianto antincendio con rilevamento automatico, un impianto di videosorveglianza, colonnine SOS con collegamento telefonico, oltre al riplistino della segnaletica. In considerazione dei possibili impatti sulla circolazione è stato elaborato e condiviso con gli enti competenti un piano di gestione del traffico e delle emergenze, con lo scopo di fornire indicazioni operative per consentire una risposta adeguata al verificarsi di eventi con ricadute pesanti sul traffico durante lo svolgimento dei lavori. Il piano stabilisce le misure da adottare per fronteggiare tali situazioni critiche in coordinamento con Polizia Stradale, Vigile del Fuoco, Comitato Operativo Viabilità, Protezione Civile, Agenzie di Soccorso Meccanico. La sala operativa compartimentale ANAS monitorerà la situazione del traffico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, compresi Natale e Capodanno, con l'ausilio di telecamere poste lungo il tracciato e sui mezzi ANAS. I consiglieri regionali hanno concordato sulla necessità di lavori anche notturni che comporteranno un aggravio dei costi per 600 mila euro, non a carico dell'ANAS, che ha già pianificato e iniziato lavori per un importo totale di oltre 33 milioni di euro, di cui 20 per il raccordo Perugia-Bettolle, provenienti dai Ministeri delle Finanze e delle Infrastrutture. L'Assemblea Legislativa ha deciso di rinviare alla Seconda Commissione la discussione sulla mozione presentata dal consigliere Andrea Liberati del Movimento 5 Stelle in merito alla costruzione della stazione dell'alta velocità ferroviaria Medietruria. Il confronto sull'eventuale costruzione e sulla ubicazione della stazione dell'alta velocità ferroviaria denominata Medietruria avverrà nell'ambito della discussione del piano regionale dei trasporti già incolso in Seconda Commissione. Lo ha deciso l'Assemblea Legislativa dopo un lungo confronto approvando la proposta di rinvio della mozione del consigliere Andrea Liberati, Movimento 5 Stelle. Illustrando la mozione, Liberati ha sottolineato che esistono già cinque interconnessioni ferroviarie ad Olto e Orvieto, Chiusi, Arezzo e Valdarno, che consentirebbero di prendere il treno veloce in quelle zone se fosse prevista la fermata del Frecciarossa o del Frecciabianca. Andrea Liberati ha spiegato di non condividere la scelta di spendere 80-100 milioni di euro per costruire una stazione nel deserto della zona di Rigutino, una soluzione che non servirebbe a Perugia e all'Umbria, così come sarebbe inutile la scelta della stazione alta velocità di Farneta, difficilmente raggiungibile dal capoluogo regionale. Vanno dunque ignorate certe sirene, ha detto Liberati, smettendo di costruire e cementificare il territorio con capannoni e strade inutili. La Giunta regionale ha illustrato in prima commissione il disegno di legge sul bollo per le auto storiche che recepisce le indicazioni del Governo nazionale. È stata presentata in prima commissione la proposta di legge della Giunta che recepisce le nuove normative statali sul bollo delle auto storiche dopo la bocciatura della legge approvata dall'Aula alla fine della precedente legislatura. La proposta, illustrata dalla Presidente Catiuscia Marini, prevede che i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità compresa tra 20 e 29 anni, dal 1 gennaio 2016 pagheranno il bollo ma avranno uno sconto del 10%. L'essenzione dal bollo auto rimane invece per i veicoli da 30 anni in poi. Nel corso della seduta Claudio Ricci, ricipresidente, ha sottolineato che bisogna eliminare il bollo regionale nella sua interezza, anche se bisognasse affrontare un ricorso alla Corte Costituzionale contro il Governo, come ha già fatto la Lombardia. Per Valerio Mancini, Lega Nord non si possono tartassare i cittadini in ogni contesto possibile. Secondo Silvano Rometti, socialisti e riformisti dobbiamo fare tutto il possibile per agevolare il mondo delle auto e moto storiche, rimanendo però nella legittimità legislativa. Per Giacomo Leonelli, Partito Democratico, l'ipotesi di cancellazione della tassa è in contrasto con la legge e noi dobbiamo impegnarci a cercare di migliorare il contesto complessivo. Il consigliere Marco Vinicio Guasticchi ha illustrato in prima commissione una proposta di risoluzione per la riforma del sistema del credito in Umbria. Per Guasticchi il processo di fusioni bancarie in atto sta creando forti problemi occupazionali non solo per i dipendenti degli istituti di credito ma anche nei lavoratori dell'indotto. La regione deve intervenire cercando di avere garanzie sulla permanenza in Umbria dei centri direzionali e centri decisionali, elemento che può aiutare le imprese Umbria in un momento di crisi come quello attuale. Sempre in prima commissione consigliare il Presidente e il Direttore Generale dell'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche hanno presentato il report sull'attività svolta nell'anno 2014. Lo zoo profilattico ha come obiettivo quello di assicurare la tutela della salute dell'uomo garantendo ai cittadini la risposta ai bisogni di salute pubblica, sicurezza alimentare, sanità e benessere degli allevamenti oltre al corretto rapporto tra insediamenti umani, animali e ambiente. Inoltre lavora per prevenire la trasmissione delle malattie dall'animale all'uomo e a offrire sostegno alle produzioni e trasformazioni agroalimentari. L'Istituto chiude il 2014 con un avanzo di amministrazione di 1.850.000 euro su un bilancio di 23 milioni di euro. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle televisioni locali di tutta la regione, è disponibile anche in rete sul sito ufficiale consiglio.regione.umbria.it e su Youtube. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie.